Ciao ragazzi, in questo video andiamo a vedere come si accende una stufetta a gas apro qua così capite dove va la bombola, vi faccio vedere qual è il tipo di bombola che verrà usata questa è una stufetta con la quale possiamo o cucinare o riscaldarci semplicemente per riscaldarci in questo modo, per cucinare c'è un pulsantino qua c'è una levetta dalla parte opposta e si mette così, qui sopra c'è la griglia che era compresa una cosa che allarga in maniera tale che possiamo appoggiarci la padella e cuciniamo in questo modo qua se vogliamo risalire c'è questa levetta sempre da tirare da questa parte c'è il blocco sempre da quest'altra parte da premere e a questo punto ritorna fino a che scatta e la levetta si mette giù insomma semplicemente su e giù allora andiamo a mettere all'interno allora si toglie il cappuccio vediamo, eccolo qua, era così, semplicemente si inclina e questo si toglie si mette qua dentro ok, a questo punto attenzione qua c'è un verso proprio, vedete che è l'unico punto dove c'è questa scannalatura quindi si mette dentro e si gira in maniera tale che questo pernetto qua vediamo se riusciamo anche a zoomarci un po' ok, a zoomarci un po' in modo che lo vedete più da rimicino questo pernetto che entra dentro va a vedere? quindi rifaccio l'operazione prendo, metto dentro ok, questo entra dentro a questo punto, giro, c'è questa levetta da tirare questa levetta gira un ingranaggio che praticamente adesso la tengo su aspettate che eccola qua questa levetta girerà un ingranaggio che farà sì da far scattare un blocco che la tiene in pressione e in posizione ok? quando io giro vedete questa che si muove qua? quindi ci darà la bomboletta pressata in modo che entra qua dentro nella giusta posizione quindi si inizia con questo su in alto si prende, si inserisce dentro e si blocca così a questo punto il movimento che farà entrare lo vedete qua infatti adesso vi zoom ancora in modo che vedete quello che succede quando questa è messa nella posizione corretta il movimento quando questa è messa nella posizione corretta il movimento la fa entrare dentro così a questo punto vedete che qui noi siamo su off prendiamo e scattiamo fino in fondo qui praticamente farà la scintilla e si accende se non che questo non sta funzionando bene quindi non mi funziona la scintilla automatica cosa faccio? io metto su off in modo che non esce il gas accendo un fiammifero ok lo metto in modo che possa entrare qua e accendo il gas appena appena a questo punto si è acceso già adesso voi non lo vedete alexa spengi green screen eccolo qua vedete che si è acceso alexa spengi interrogatorio le varie luci che sto spengendo così vedete si vede meglio alexa spengi nonno ok e a questo punto è accesa con la stessa cosa noi potremmo cucinare o riscaldare nel caso di riscaldare io non ce l'ho al cronomero però penso che più o meno due o tre ore e l'equivalente alexa accendi ufficio allora l'equivalente è più o meno il calore che darebbe una stufetta da 2 kilowatt tipo uno scaldo bagno ecco quindi dà il calore di uno scaldo bagno per all'incirca tre ore quindi essendo che la bomboletta costa un euro e cinquanta all'incirca in certi posti costa anche due euro e cinquanta diciamo che forse in Italia normalmente il prezzo normale potrebbe essere due euro e cinquanta magari al dettaglio comprata così sono tre ore di calore che costano di più della corrente sicuramente con la corrente pagate meno quindi è una cosa che è comoda per i posti non raggiungibile dalla corrente se no una normale stufetta in caldo bagno o dei longhi vi costerebbe di meno è comoda perché voi siete in grado di utilizzare questa fonte di calore senza utilizzare la corrente quindi mettiamo che in una casa dove magari ci avete dice sì ma c'è lo scaldo bagno però se succede il caldo bagno con qualsiasi altro elettrodomestico una normale casetta che ha tre kilowatt salterebbe la corrente quindi con questa qua potete dare una riscaldata a una piccola stanza indipendentemente e l'utilizzo suo principale evidente è per cucinare perché per riscaldare ci sono dei modi molto più economici l'utilizzo così e si vede che è da campeggio o d'emergenza magari uno c'è una piccola baita che non non c'è la legna o in un attimo volete semplicemente usarla quei cinque minuti così una baita una casa non raggiunta dalla corrente una casa che ha la corrente ma la corrente potrebbe servire per altre cose se la usate per riscaldare bruciate l'impianto perché è un impianto vecchio allora in alcuni casi si vede che nel frattempo è diventata più incandescente potrebbe servire anche per riscaldare a questo punto è così è trasportabile in questo modo mentre l'utilizzo principale sempre in situazioni di emergenza tipo campeggio per cucinare chiaro che se uno c'è una piccola tendina e lì chiaramente non c'è l'impianto elettrico non c'è l'impianto di riscaldamento quei due euro per riscaldarsi in quella situazione possono avere un senso chiaramente esistono altri modi così però alla fine per determinate situazioni o tenerla d'emergenza come scotta d'emergenza o per situazioni mobili potrebbe essere una soluzione carina comunque il modo di accenderla ve l'ho fatta vedere ok ciao ciao ciao